e il giorno dopo il carosello dei carabinieri mi trovo all'interno dello stadio erasmo jacovone per rappresentarvi per farvi vedere le condizioni pietose in cui è stato ridotto il manto erboso letteralmente distrutto è diventato un campo di patate in buona sostanza si è trasformato tristemente penosamente in un campo di terra battuta e qui emergono le gravissime responsabilità dell'amministrazione comunale di Taranto dell'amministrazione Melucci benvengano quelle iniziative atte a far crescere il territorio benvenga il carosello dei carabinieri ma è assurdo è incredibile è vergognoso che il sindaco e la giunta il sindaco quindi la giunta comunale di Taranto abbia autorizzato abbia consentito abbia concesso lo stadio jacovone per appunto questo carosello dei carabinieri per questa parata per questa carica a cavallo carica a cavallo pensate un po i cavalli giustamente non è certamente colpa loro hanno fatto la loro carica proprio sul manto erboso dello stadio jacovone producendo dei gravissimi dei gravissimi danni allora io mi domando ma è possibile che un'amministrazione comunale un sindaco un'aggiunta i dirigenti concedano l'uso dello stadio del manto erboso per fare una cavalcata ma scusate al paese mio i cavalli scorazzano all'ippodromo non negli stadi penso che i cavalli debbano stare all'ippodromo e i calciatori allo stadio qui invece abbiamo fatto il contrario abbiamo mandato i cavalli allo stadio e forse nella logica di melucci manderemo i calciatori all'ippodromo voglio dire una manifestazione del genere si poteva tenere in altri luoghi idonei non certo su un manto erboso di uno stadio si sarebbe potuta tenere la manifestazione presso la scuola allievi carabinieri la ex sede di maricentro e ripeto parliamo di una carica di 70 cavalli ripeto 70 cavalli altre sedi altri luoghi idonei c'erano certamente ma il bello è poi che l'amministrazione comunale per questa manifestazione ha stanziato anche 100 mila euro quindi in questo caso non è lo stato che aiuta taranto ma paradossalmente è taranto che aiuta lo stato ma al di là di questo è incredibile è pazzesca una cosa del genere pensate un po quanto tempo ci vorrà per rizzollare lo stadio e per far sì lo stadio il manto erboso e per farlo appunto per ripristinarlo e i tempi sono brevi perché poi consideriamo che ci sarà il preritiro da parte del taranto e quindi già diventa un problema l'utilizzo dello del del manto erboso dello jacovone e poi ci saranno le amichevoli e la coppa italia di agosto sicuramente per quella data non si farà in tempo a ripristinare il manto erboso al di là dei tempi che pure hanno una incidenza significativa c'è il danno economico non è possibile che per errori gravi gravi per colpe gravi colpa gravissima si direbbe in termini giuridici dell'amministrazione comunale della giunta si debba creare un danno alla città si debba creare un danno al taranto calcio si debba creare un danno ai tifosi e soprattutto si debba creare un danno notevole alle casse comunali ora saranno saranno le casse comunali il comune di taranto a pagare per appunto riqualificare il manto erboso guardate le immagini sono più eloquenti di ogni parola il manto erboso è ridotto a un campo di patate questo per una decisione scelerata della giunta municipale di taranto come vedete melucci non fa altro che creare danni su danni su danni e il bello anzi il brutto è che ieri allo stadio non si è banco presentato era presente il vice sindaco manzulli melucci assente bene valutate voi tarantini valutate voi tifosi rosso blu i danni enormi che questa amministrazione sta procurando tifosi rosso blu questo è il nostro sindaco purtroppo grazie a tutti grazie a tutti